Musica Beh ragazzi qui è Mario e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Ci troviamo oggi finalmente in un nuovo episodio della Pixelmon Ragazzi cosa faremo in questo bellissimo episodio che non mi ricordo che numero siamo Allora ragazzi innanzitutto visto che saremo intorno al diciottesimo episodio Voglio finalmente svelarvi il vero segreto della mia palestra Avete quelle Ultra, quelle Pokémon così, la Megaball Probabilmente le tirerò giù ragazzi perché ho cambiato idea Ho in mente un'altra cosa da fare davvero molto ma molto ma molto figa Allora innanzitutto correrò un po' qui in giro Anzi faremo una cosa, cavalcherò il nostro Entei Mentre vi spiegherò inizialmente l'idea della mia palestra rega E poi andremo a catturare un Pokémon davvero molto molto importante Proprio per questa mia bellissima palestra Andiamo intorno per esempio al D-Pose Magari ci spuona per esempio un Legendario Mentre tipo spieghiamo cosa facciamo Anzi no raga, prima apriamo il regalo di Natale del buon Eren Perché ormai è passato il Natale, siamo al 27 Intanto un Driflon Allora io ti combatto, ti distruggo Solo perché hai provato ad uccidermi Entei Guarda davvero Pirla Allora qua, DeMark mi regala un Bacca Enigma Wow Ragazzi spiegatemi nei commenti cosa serve Comunque grazie mille, buon sime Comunque Entei esci fuori e andiamo verso il D-Pose Mentre ragazzi vi spiegherò quale sarà il tema Oppure tipo quali saranno i miei Pokémon principali All'interno della mia bellissima palestra Allora Come molti voi sanno ragazzi La mia idea era quella di fare una palestra tipo volante O di tipo dragon o roba del genere Diciamo che ho cambiato un pochino idea Però voglio tenere sempre la roba del dragon Infatti oggi ragazzi andremo a cercare Altaria Nella Birch Forest Che ho già il bioma salvato nei waypoint Quindi dopo andremo Intanto vedete che tipo là in fondo c'ho una forest Che sta tipo a 10.000 blocchi Però ragazzi non fatevi domande Fa niente davvero Comunque La mia idea di palestra ragazzi è davvero molto molto strana Perché la mia idea è andare nel land Sconfiggere land in dragon Perché ragazzi anche se siamo in peaceful Land in dragon può spawnare lo stesso Quindi non cambia tantissimo Quindi dobbiamo uccidere anche il nostro bellissimo ender dragon E dopo che uccidiamo il nostro bellissimo ender dragon Ragazzi faremo la palestra esattamente nel bioma Cioè nel bioma del land Nel land Il tema principale saranno i pokemon di tipo o drago Oppure volante o robe del genere Ma soprattutto ragazzi saranno i tre cani leggendari Se così possiamo chiamarli Cioè Suikun Entei E il bellissimo Raiko Che non ci ha voglia di spawnare neanche se lo spari ragazzi Non si può dire lo spari Non lo so Comunque ragazzi Raiko non è ancora spawnato a nessuno A meno che quando A bereggiare c'è stato un video con Raiko Che deve uscire Ma davvero ragazzi Una cosa scandalosa Magari ogni tanto stiamo lì Tutti quanti a camperare nella savanna E a nessuno spona Raiko E tipo diciamo Ma esiste davvero sto leggendario? Probabilmente sì Ma non ci ha voglia di spawnare all'interno Di questo seed Se così possiamo chiamarlo Vabbè comunque ragazzi Ormai è salito l'alba Così quasi Poi andiamo un attimo nella forest E l'alba ragazzi Magari ci spona un bellissimo leggendario Però chi lo sa Però rega comunque Non so se notate Ma nell'inventario Ho un sacco di ultra ball E poche Velox Ma scuro ball Così Perché rega Ho farmato davvero un sacco Ma un sacco off camera Quindi Diciamo che sono pieno Zeppo di materiali Per catturare Un sacco Ma un sacco di poche Infatti l'episodio di oggi Sarà davvero molto Molto shallow Perché Diciamo che ho ancora Un pochino di febbre Quindi sarà anche un episodio Molto molto corto Appunto per questo motivo Intanto sto pokemon qua Oddio Jigglepuff sembrava Mew da lontano Rega magari sono stupido Io ma sembrava Non uccidetemi Non sponerà nessun leggendario Però vabbè Qua Qua c'è un healer Vuol dire che qualcuno È passato da qua Dovete uccidere Tra di voi Ma perché Mannaggia il server Che dice ogni volta Che il mondo è stato salvato Tipo sembra che esce Un leggendario E mette un'ansia pazzesca Comunque rega Mi sa che Non uscirà nessun rei quasi Per la nostra sfiga Come sempre Quindi direi Allora Teleportiamoci direttamente Nella Birch Forest Alla ricerca Nel nostro bellissimo Altaria Che ancora Non ho ancora mai trovato All'interno di questo Bellissimo gioco Quindi allora Di sicuro è in volo Altaria Quindi di sicuro Devo volare con il nostro Bellissimo Salamence Quindi andiamo Bomber E calmo Allora Vediamo un attimino Se troviamo qualche Pokémon figo Per esempio Altaria Vediamo un attimino Oh Eccolo No è lui Rega non capisco Calma Eccolo Altaria Ciao Bomber Mica il 53 Subito Ciao Bomber Allora 52 Allora Innanzitutto proverei subito Con una Velox Per prendere Altaria Quindi Proviamo subito a prenderlo Altaria si è liberato Cazzo Però se No Mi ha addormentato Salamence Sacco di merda Allora Riproviamo un attimo ancora Con la Velox No si è liberato Allora Calma Il suo è super efficace con me Allora Proviamo con Fulmidenti Però io sono addormentato Dove cambiare Pokémon Proviamo con Con Snorlax Quello più debole Devo fare un attacco Che non li faccia tantissimo Sì ma lui mi ha addormentato Tutti i Pokémon Rega Come faccio? Come faccio a uccidere? Cioè a prendere Altaria Se mi addormento tutti i Pokémon Uno No Eh niente La Velox Non ha più effetto Calma Allora Prendiamo qua Con la Ultra Ball Ne abbiamo davvero un sacco Di Ultra Ball Rega Proviamo così Rega Se non posso mai attaccarlo Come cacchio faccio a prenderlo? No Si è liberato al terzo No Ancora al terzo Non so rega Non so perché se Allora Snorlax è quello Di livello più basso Se uso un altro Pokémon Lo ammazzo Cioè ma Quindi Ok preso Preso Altaria Rega Top Però devo tornare a casa adesso Perché tutti i Pokémon Addormentati Zio Pera Bestia Cantante Vabbè Intanto minchia Sto cazzo di Cadabra Che mi fa cagare in mano Ogni volta di teleporta Sembra un Enderman Cavolo Comunque rega Parlando anche del fatto Che Sarà una palestra Tipo Non al computer Vero Come sempre Allora è vero Rega fermi un attimo Ce l'ho un ascia Da qualche parte Minchia quanto sto laggando Ce l'ho Perché mi avete scritto Che è un sacco di gente Che Tierless Mi ha fatto un regalino A sinistra del mio healer Allora calma un attimo Dov'è che Dov'è Non lo trovo rega Mi avete scritto Eccolo qua Allora Uuuuh Altre Pokéball Vediamo cosa mi ha scritto Mi ha lasciato un cartello Allora Buon Natale Tierless Allora voglio fare anche io Un regalino Buon Tierless Allora qua c'ho del legno Qua c'ho degli stichetti Posso farmi subito Un cartello Così Qua ci mettiamo Lo stichettino E abbiamo tre cartelle Allora Magari li regalo anche io Delle Pokéball Così delle Ultra Ball Magari li faccio anche io Il quadratino così Il rombo Oddio il quadratino Il lag Grazie Minchia che capelli Improponibili Che c'ho rega Ma ok Allora Mi scusami Tierless Mi serve tutto Il bellissimo computer Allora Qua Devo prendere subito Altaria E metterlo al posto Di Magmar Ok perfetto Intanto la nostra bellissima Diciamo Ma proprio Rega Avrò Allora Innanzitutto Dragonite Poi Poi Tiranitar Poi I tre cani Leggendari E poi Altaria Secondo me Ci sta rega Perché Tiranitar Non posso toglierlo È praticamente Uno dei miei Pokémon preferiti Insieme a Dragonite Però innanzitutto Vorrei vedere una cosa Rega Fermi un attimo Come vedete Rega Ho switchato un attimino Nella zona Facecam Perché volevo Vedere un regalo Di un fan Del Torino Comics Proprio al volo Mi ha regalato Mentre ero in fila Per fare firma Coppa dei Mates Mi ha regalato Questo Dragonite X Però Calma un attimo Ok Così Così lo vedete Meglio Mi sa Tipo Era in fila Per il firma Coppa dei Mates Tipo Appena mi ha visto Che sono andato a salutare Tutore gli altri Mi guarda E mi ha iniziato Tipo a sbracciarsi Tutto Sono andato lì A salutare A fare la foto Poi mi fa Ho una cosa per te E mi ha fatto vedere La carta di Dragonite X Che sapeva che È il mio Pokémon preferito Mi ha reso davvero Un sacco Ma un sacco Ok Siamo tornati sul gioco Devo fare Ritornare un pochino In vita I nostri bellissimi Pokémon Per esempio anche Altaria Però non sento rumori Ok Ora li sento Ok Così Allora Qua li mettiamo dentro Magari Delle Velox Ball Così E qua in mezzo Li metto 4 Ultra Ball Dai Va bene Ci sta Ci sta come regalino Tutti quanti Mi hanno fatto praticamente Un regalo all'interno della Pix Ma anzi ragazzi Se per esempio Ho balzato qualche regalo Fatemelo sapete Allora Io direi Facciamo così Tiremo fuori il nostro bellissimo Altare E proviamo a volare Magari è molto bello Altare da volare Vorrei andare nell'Isola Pene Ragazzi Ormai è famosissima l'Isola Pene Perché è lì ragazzi C'è la leggenda Che ormai sull'Isola Pene Se stai un po' di minuti Tipo si spawnano il leggendario Quindi vorrei provare Questo tipo di leggenda Però cacchio L'Isola Pene dove stava? Mi sembra Stava qua in zona Allora Vediamo un attino Magari potrei anche Per demi di posto Nascuna leggendario Tipo ai chiocchi Devo andare sott'acqua Un casino Mi sa che quella è l'Isola Pene Ok si è quella L'Isola Pene Che tropp Che tropp Che top Random Quasi quasi ci combatta Con Feraligator Nell'attesa Allora qua C'è una chest Allora cosa c'è? Narellson Che ignoranza Però cacchio Voglio combattere Con Feraligator È troppo ignorante Trovarlo così Proviamo subito con Altaria Rega Giusto per provare così Un combattimento al volo Allora Dragospiro Canto Altaria c'ha Canto? Canto fa addormentare i Pokemon Mamma Altaria 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 è la svolta Rega Con il leggendario È la svolta Altaria Proviamo ancora La Dragospiro Rega Altaria è la svolta Con i leggendari Secondo me Minchia Mi hai shottato così Altaria Praticamente Ma come ti permetti Feraligator Mamma mia Troppo forte Altaria Rega Troppo forte Troppo cazzo forte Qua Eccoci qua Sapevo che è sponato Un leggendario Così a random È sponato Un leggendario Nella mesa Bryce Devo Rega È ancora Che ansia Allora Calma un attimo Calma un attimo Allora Saliamo su Altaria E proviamo a colpirlo Per esempio da sotto Rega Perché ho letto i commenti All'altra volta Dove vi ho chiesto Come potrei ingaggiare Un Pokémon Leggendario Così Allora Devo gestirmela per bene Qui non arriviamo Allora No Che cazzo si fa Rega Allora No Così No Nemmeno Ha richiamato Tyrannitar Sta prendendo vita Si minchia Ha perso un sacco di vita Tyrannitar Rega Allora Calma No Proviamo con Con Snorlax Rega Almeno Così non gli facciamo perdere Tanta vita A Tyrannitar Calma Allora Noi ci mettiamo Qua sotto Adesso Allora No Minchia Ma come cacchio faccio Non colpirlo Allora Calma Calma Allora Madonna Ste nuvole di merda Ste nuvole di merda Allora No Minchia Che palle Sempre con O Sempre con O Sti problemi Gli altri leggendari Mai Neanche con Lugia Sti problemi Mai Invece con O Si Allora Ok No Non cadere Non cadere Non cadere Dove è andato Ok calma A meno che Vado a fare un pillar Là in fondo Perché tanto Lui sta Andando dritto Minchia Ste nuvole del cazzo Allora Da qua Metto un pochino sotto Preso 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 Allora rega Io proverei Subito di ignoranza Una Velox Ball Così a random Allora Metti in caso Che con la Velox Ball Ce la facciamo Allora Se no Adesso poi tiro fuori Perché non ho altaria Intanto mi ha sciottato Allora Calma Tiriamo fuori altaria rega E con l'altaria Li faccio canto Allora Vediamo Come Che cazzo è successo Cosa No Rega Che cosa è successo Che cosa è successo No rega Non gli ho fatto niente Perché è esploso Così a random Rega L'ho fatto Ma è qua Ma che cazzo ha fatto Dove è andato No rega Dove è andato Stavo selezionando il pokemon No Non ditemi che ti ho sponato Così In ignoranza Ma che cazzo è successo Cioè È sparito Così a random La cosa qua è stata abbastanza scandalosa Rega dove cazzo è sparito Perché è sparito così a caso Cioè Lui aveva perso vita da solo E io tirato fuori altaria E l'ho fatto canto Cioè Non gli ho fatto una mossa devastante Canto dovrebbe addormentarlo Cioè Non mi ha dato neanche drop Niente Boh Non l'ho proprio capito sta cosa Non l'ho proprio capita Vabbè rega Per questo episodio Tutti mancano Spero che vi sia piaciuto Purtroppo non ho fatto davvero tanto Anzi ho fatto davvero molto Molto poco in questo episodio Perché comunque Non sto ancora bene Ho ancora una febbre Ho ancora un sacco di mia di tassa Però comunque voglio far uscire Questo episodio della Pixel Mi raccomando Spero che vi sia piaciuto Ci dà un piaccio Con un bel commento A iscrivervi al canale Se ancora avete fatto ragazzi Io vi lascio Con un prossimo video domani Da Marche è tutto Bella